Buonasera, 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 grazie! Buonasera, grazie, questa è l'anteprima di Affari Tuoi speciale Teleton, stasera giochiamo tutti insieme per la solidarietà, insieme ai ricchi e poveri, Alessandro Moroso, dopo con i ricchi e poveri si è giunta una medio ricca povera, Moreno, il mio figlioccio, le regine di tale quale show, Clizia Fornasier, Fornasier con la R di Roma, Raffaella Figo, Serena, Rossi, eccole qua, 4-5-5-0-1 è il numero stasera da inondare in tutte le maniere per far volare questo numeratore, inquadriamolo, dobbiamo arrivare in alto, in alto, in alto, in alto, altissimo! Una cosa, sono già fantastici, basterebbe l'ororo, ma ci siamo voluti veramente stare, rovinare, stasera Teleton a Affari Tuoi vi porta altre mille sorprese, arriveranno ospiti, ospitesse, devo, devo vincere una scommessa, venerdì allo speciale del Teleton ho conosciuto, un bambino straordinario, è diventato mio amico, siamo amici, è Raffaele, è veramente speciale, lui è convinto che io stasera non lo saluterò, io lo sto salutando, vi faccio anche vedere cosa abbiamo combinato insieme venerdì sera, grazie, Mimmo, fischia, io vado. Sei pronto, Raffa? Raffa, quando sei pronto tu? Porca miseria, quello è Raffaele, questo è Raffaele, il mio amico Raffaele. Io ho mantenuto la promessa, adesso la promessa che ci lega, stasera e per sempre, è aiutare il Teleton per sconfiggere le malattie genetiche, vi prego, è il 45501, è il numero chiave di questa sera, aiutateci, grazie, a dopo! Oh, oh!